I lavori potrebbero finalmente subire un'accelerata. Stamattina ho trovato in una fabbrica una quantità di materiale immensa. Sulla macchina sono riuscito a prendere quella minuteria lì per terra, 10 coperchi, 9 scatole intere, una quella lì per terra, con cui sto facendo il tetto. Ce ne vogliono 60 a fare il tetto, 60 solo per la base, poi il resto della copertura si vedrà, più tutto il resto che serve per le parti esterne. Poi anche 9 di questi bancalini qua, tutta roba utile per un motivo o per l'altro, credo che ci sia un ramarro, ogni tanto mi viene a fare visita. Quindi sia per le coperture esterne che per le cose un po' più resistenti, questi qua sono tosti. Quindi forse il materiale riuscirò a procurarmelo più in fretta, adesso che so che anche lì buttano via un sacco di materiale. Sono arrivato che stava andando via il camion con il primo carico, un camion a due rimorchi strapieno di scarti legnosi, tutti triturati per farceli stare meglio. In attesa che venisse a prendere il secondo giro, una parte sono riuscito a prenderla in modo da poterla utilizzare qua. Bene, mettiamoci all'opera.